Signori e signori, siamo alla partenza del nostro viaggio per l'Islanda, vi mostriamo un po' l'attrezzatura che porteremo con noi e poi pronti a imbarcarci. Allora, portiamo con noi una Canon 5D Mark IV con il 16-35 per fare tutti i paesaggi, poi portiamo il 70-200 f2.8 invece per fare gli animali o comunque i dettagli. Dopodiché abbiamo con noi la Leica SL2S prestataci da Leica Camera Italia insieme al 24-90 f2.8 f4, una lente fantastica, molto versatile, molto bella. Portiamo il Manfrotto 190 che è l'unico cavalletto abbastanza robusto da resistere al vento che c'è in questo paese. E poi portiamo l'iPad con noi con cui faremo tutte le sere il backup su un hard disk e SSD esterno di tutte le foto che facciamo, se no non ci bastano le schede di memoria. Pronti a partire con questo viaggio con noi? Via! Salve a tutti e benvenuti in Islanda. Iniziamo qua il nostro tour fotografico in cui in questo viaggio vi racconteremo un po' come è la vita per un fotografo in Islanda, i luoghi più interessanti da vedere e qualche consiglio e info utili per scattare e fotografare in questa terra magnifica. Iniziamo il nostro tour proprio da qua, in questo luogo in cui due placche tettoniche si incontrano, quella euroasiatica e quella americana, creando una spaccatura nella roccia un po' come un piccolo canyon con ste pareti altissime nere e adesso ci camminiamo in mezzo. Iniziamo il nostro viaggio! Ok, ci siamo spostati alla seconda tappa del nostro tour fotografico per l'Islanda, ovvero la zona dei geyser. Siamo a Strokur e questo è il geyser Geysir. Questo qui è molto raro che erutti, è più basso, invece poco più in là ce n'è uno che farà anche lo spruzzo, infatti adesso andiamo a fotografarlo mentre è nel momento di eruzione, che è quello più o meno ogni 5 minuti erutta. Ok, terza tappa del nostro tour in Islanda, ci troviamo a Gulfos dove c'è questa incredibile cascata e ne stiamo approfittando per fare una foto con la Leica SL2 con la modalità multishot, ovvero sfrutta il movimento del sensore dal fatto che è stabilizzato per spostare il sensore, fare quattro scatti e metterli insieme, avendo così uno scatto da 96 megapixel. Chiaramente richiede di essere su cavalletto superferma. Siamo su questa strada sterrata, riservata soltanto se si ha 4x4, che ci permette di arrivare a delle cascate di I-Foss, che sembrano essere molto belle, il fatto che è soltanto per auto 4x4, probabilmente saranno meno piene di gente rispetto alle altre che abbiamo visto. Ci troviamo adesso ad I-Foss, quarta tappa del nostro giro di oggi della Golden Ring qua in Islanda. C'è un paesaggio che è fuori di testa, per la fotografia è fantastica e stiamo testando bene la lente che ci ha dato con la SL2S, ovvero il 24-90, che ci permette di passare sia da un gran grand'angolo in cui riusciamo a catturare bene le cascate, ma anche a 90 mm riuscire a concentrarci su un dettaglio e fare un particolare che più ci interessa la cascata. Ok, allora questa nostra prima giornata in Islanda si è volta al termine e vediamo un po' come gestiamo il workflow di lavoro a fine giornata per quanto riguarda l'archiviazione delle foto. Allora, durante tutta la giornata sia la Canon che la Leica SL con cui stiamo filmando hanno dentro due schede di memoria e una fa il backup dell'altro, quindi se anche dovesse succedere un problema alla scheda abbiamo un backup simultaneo. Questo perché in condizioni di ambiente freddo, umido, eccetera, le schede purtroppo possono danneggiarsi, quindi preferiamo sempre una sicurezza aggiuntiva. I file che stiamo facendo, essendo tutti 4K, sono comunque molto pesanti, quindi occupiamo molto spazio nella scheda, quindi occorre la sera fare un backup. In questo viaggio abbiamo scelto di utilizzare l'iPad per questa cosa. Infatti, come potete vedere, abbiamo qua un hub USB che mi permette di attaccare un hard disk esterno SSD della SanDisk e questo qui è tropicalizzato, impermeabile e robusto. Alla sera, appunto, come dicevo, collego la scheda di memoria e tramite l'iPad copio i file della scheda della Canon o della SD della Leica dalla scheda direttamente all'hard disk utilizzando l'iPad come tramite, visto che i nuovi iPad hanno la porta USB-C. In realtà è molto veloce perché oggi abbiamo fatto un backup di più o meno 25 giga la scheda in 6-7 minuti, non male per essere appunto semplicemente un tablet. Quindi copiamo tutto su un hard disk, una volta che è tutto copiato lo copiamo anche sull'altro, quindi abbiamo la stessa copia sui due dischi e a quel punto formattiamo le schede di memoria per avere la scheda di memoria libera, per avere tutta la giornata di riprese il giorno dopo con la memoria libera. Troviamo la Saljadda Pos, questa altissima cascata di 63 metri in cui è possibile camminare dietro. Come vedete la macchina fotografica l'abbiamo messa all'interno di queste custodie perché appunto col forte vento e la cascata rischia di bagnarsi, quindi è protetta, permette di inserire le mani lateralmente e ha un buco per l'obiettivo davanti e sotto per il cavalletto. Entrambe le macchine sono messe così, quindi ora andremo a sotto a far la cascata da dietro dopo che abbiamo fatto qualche foto già da qua. Seconda tappa, giorno 2 Islanda, oggi ci troviamo all'Eskogafoss, è una tra le cascate più grandi in Islanda e anche qua abbiamo dovuto impacchettare la macchina fotografica per evitare di distruggerla e ci metteremo penso l'avanti col cavalletto in mezzo al fiume, tanto abbiamo le scarpe in Gore-Tex, nessun problema, pantaloni impermeabili, giacca in Gore-Tex, in mezzo alla cascata col cavalletto, col filtro ND per fare uno scatto lungo e catturare tutta la scia della cascata. Andiamo! Terza tappa del nostro tour in Islanda, della seconda giornata, oggi ci troviamo al ghiacciaio, non chiedetemi di pronunciare il nome per favore, è troppo difficile. Con l'attrezzatura che abbiamo, quindi senza ramponi, caschetto, piccozze, questo è il punto più vicino che si può raggiungere, più in qua di qua ci hanno detto di non proseguire, ma già da qua il paesaggio è assurdo. La cosa più incredibile di tutti è che il ghiaccio è completamente ricoperto da cenere vulcanica e fa stranissimo pensare di mettere insieme un ghiacciaio e un vulcano e lo rende assolutamente unico al mondo. Allora ragazzi, stiamo pronti a fare multiscatto, ma c'è talmente tanto vento che nonostante il Manfrotto 190 balla e la macchina fotografica non darà la possibilità di farlo al famosissimo Dakota precipitato. Adesso ci troviamo su una scogliera a pochi passi da dove c'è l'aereo caduto. Siamo qui su questa scogliera perché è dove nidificano i puffin, le pulcinelle di mare, e stiamo provando a fotografarle. Purtroppo abbiamo soltanto il 200 mm che per questo scopo è un po' corto. Se vi interessa fare questo tipo di foto, vi fa una in questo luogo dove è il posto più probabile e più semplice in cui trovare le gallinelle qua. Vi consigliamo di portare o un 140 mm o un 600 mm o anche più se ce l'avete. Ancora meglio se avete dei moltiplicatori di focale. Aggi ci siamo spostati. Ha questo ghiacciaio anch'esso dal nome impronunciabile. Purtroppo però si avventura molto all'interno delle montagne quindi è scarsamente raggiuncibile a piedi. Si riesce soltanto a vedere alcuni lembi in cui arriva più vicino alla strada come questo ad esempio. In questo caso vogliamo sfruttare la capacità multishot da 96 megapixel della Leica SL2. Abbiamo deciso di farlo in modalità verticale facendo quattro foto allineate appunto tenendole in modalità verticale e poi lo uniremo in Photoshop. Quindi avremo un singolo file da 400 megapixel. Vediamo un po' cosa esce. Però qua è molto bello perché c'è il lago piatto e si riesce a vedere il riflessino del lago nell'acqua che spero che il 96 megapixel renda. E poi alcuni pezzi di ghiaccio qua sono più chiari, più bianchi e ho alcune addirittura azzurri e meno ricoperti di detriti vulcanici come invece il ghiacciaio di ieri. Quindi è molto più effetto ghiacciaio bianco. Vediamo un po' gli scatti. Ci troviamo a molti di mezzo al video per arrivare al centro del lago glaciale per poter fotografare con delle nuove aziende danze di Aisland. Quarto giorno del nostro tour in Islanda. Stiamo proseguendo il nostro giro in senso anti-orario e siamo arrivati in questa zona dove c'è una specie di penisola dove il mare ha forte marea. In questo momento la marea è molto bassa, sono circa le 10 del mattino e questo ci permette di riuscire a camminare dove l'acqua è molto bassa per venire al centro di questa parte di mare dove quindi riusciamo a prendere lo specchiato della montagna alle nostre spalle. Stiamo utilizzando il 16 mm montato sulla Canon che ci permette di avere un grandissimo angolo di campo e riuscire a prendere per intero tutto lo specchiato della montagna alle nostre spalle. Grazie a tutti.